Anche la vita? Sì, Sufragette doveva essere proiettato alla Camera perché rappresenta la battaglia di tutte le battaglie, cioè la battaglia al voto e dunque è giusto che in questa istituzione che rappresenta appunto la democrazia venga proiettato un film come questo. Io credo che oggi si diano troppe cose per scontate e quindi è importante far capire che le nostre conquiste sono frutto di battaglie, sono frutto di lotte costate tanto alle donne, ma queste battaglie devono andare avanti e noi oggi tutte ci dobbiamo sentire un po' suffragette, ci dobbiamo sentire suffragette perché il percorso non è finito, perché noi dobbiamo andare avanti in nome e per conto di tutte quelle donne che ancora non hanno gli stessi diritti. Ecco, ci sarà appunto parità e guaglianza solo quando nessuna donna sarà lasciata indietro, dunque abbiamo ancora molte cose da fare.